Buongiorno a tutti, benvenuti a Parabiago, presso l'hotel del Riale. Io sono Marco Garavaglia e mia sorella Francesca, siamo i titolari dell'hotel, dove possiamo ospitare i vostri soggiorni business e di svago durante il weekend. L'hotel del Riale è un quattro stelle dotato di tutti i comfort e i servizi, locato in posizione strategica, essendo solo 20 km circa da Milano centro e altrettanti dall'aeroporto di Malpensa. L'importante è anche sottolineare il fatto che la vicinanza del nuovo polo fieristico di Roa Fiera ha solo i 10 km o 12 minuti di treno. Infatti la fermata delle ferrovie dello Stato si trova solo a 300 metri e abbiamo un servizio gratuito di transfer. L'hotel del Riale è composto da 37 stanze, matrimoniali, doppie e anche singole. Ogni stanza è dotata di ogni comfort, abbiamo televisori nuovi LCD e ogni stanza è raggiunto dal servizio wifi internet gratuito e delimitato. L'hotel del Riale, oltre al per il vostro soggiorno, è a disposizione per organizzare cocktail party, eventi e meetings. Il nostro coupon in offerta per voi prevede un pernottamento in camera doppia standard con prima colazione e tutti i servizi quali sky, internet e il posto auto. Il nostro buffet della prima colazione si compone di primizie italiane, sia dolci che salate, quali potrebbero essere comunque le marmellate, la nutella, i cereali, degli affettati, dei formaggi italiani dop, oltre alla normale crossanteria. E vi invitiamo naturalmente a degustare il nostro ottimo cappuccino. L'hotel del Riale si trova in una posizione strategica anche per le vostre cene e i vostri pranzi, in quanto nelle vicinanze dell'albergo vi sono notevoli ristoranti e pizzerie. Dal ristorante classico italiano alla trattoria, anche il ristorante particolare, più ricercato, con menu ad hoc a base di pesce e abbiamo anche un ristorante giapponese. Al vostro arrivo in albergo saremo disponibili a darvi informazioni per aiutarvi al meglio nella scelta. E per i nostri amici che acquisteranno il coupon, il nome del gratuito delle nostre biciclette. Acquistando il coupon sicuramente avrete un trattamento pari a tutti gli altri, perché vogliamo farvi provare i nostri servizi, la nostra qualità e dimostrare la nostra passione per questo settore turistico e per voi. L'acquisto dei coupon è cumulabile, quindi potete anche fare più di una notte da noi. Seguendoci su Facebook, facendo un commento positivo o un I like it, al prossimo soggiorno avrete una piacevole sorpresa. Vi ringraziamo per l'attenzione e vi aspettiamo al video reale. Ciao! Ciao, ciao! Ciao!